Il 14 settembre scadranno i termini per rispondere al bando L'Aquila Include, bando a favore delle persone e famiglie a rischio povertà. Il bando consiste nell'avvio di tirocini aziendali negli studi professionali, associazioni ed enti che ne faranno richiesta per un totale di 107 persone. Gli ammessi al tirocinio percepiranno 600 euro mensili. Il progetto L'Aquila Include è stato finalizzato per un importo di 650.000 euro e tiene conto anche delle persone che hanno superato i 45 anni e che trovano più difficoltà ad avere un'occupazione. Il bando è pubblicato sul sito www.comune.l'aquila.gov.it, nella pagina Progetti europei L'Aquila Include, nella sezione Noi e l'Europa dell'area amministrazione.